Ciao tifosi rossoneri! Attenzione a questa notizia calda che potrebbe influenzare direttamente il futuro del nostro Milan. In un'intervista a Sport Italia, il noto giornalista Alfredo Pedulla ha fornito un'analisi importante sul possibile futuro di Maurizio Sarri alla guida del Milan. Sì, hai capito bene, Sarri potrebbe sedersi sulla nostra panchina, ma andiamo con calma e capiamo i dettagli di questa vicenda. Pedulla è stato chiaro nell'affermare che non ci sono stati contatti tra Sarri e la Roma, poiché il club giallorosso ha già fatto altre scelte. Ma la parte più interessante è che Sarri avrebbe rifiutato due offerte dall'estero, proprio perché aspetta una proposta da un club italiano. E, indovina un po', il Milan sarebbe in testa in questa corsa. Ora, tutto dipende dalla prestazione di Fonseca, l'attuale allenatore. Se il derby di domenica contro l'Inter andrà male per lui, potrebbe aprirsi la porta per Sarri. Pedulla ha anche detto che già la scorsa settimana era evidente la pressione su Fonseca. Ha affermato che le tre partite contro Venezia, Liverpool e Inter sarebbero state decisive per il futuro dell'allenatore nel club. Quindi, il Milan sta per fare un grande cambiamento alla guida della squadra? Sarri, con la sua esperienza e visione tattica, potrebbe dare un nuovo volto al nostro Milan. Ora voglio sapere la tua opinione, tifoso rosso-nero. Pensi che Maurizio Sarri sia la scelta giusta per guidare il Milan, o credi che Fonseca abbia ancora qualcosa da dimostrare? Lascia il tuo commento e iscriviti subito al canale, perché qui ti teniamo sempre aggiornato su tutte le notizie e i rumors riguardanti il nostro Milan.